Uno spettacolo nello spettacolo, una doppia vittoria che premia tutti e ripaga del duro allenamento e dell'instancabile passione. Le ragazze della Titanium Cheer & Dance di Tezze sul Brenta portano a casa due ori da Norimberga in occasione della Bayern Cheer Master. Noi ci occupiamo di cheerleading che è uno sport acrobatico a tutto tondo dove all'interno ci sono delle coreografie composte di ginnastica, salti, piramidi, lanci e danza. Eccole le acrobazie che sono valse due medaglie d'oro alle ragazze tutte tra i 15 e i 20 anni, armoniose ed energiche nel portare in pedana le loro coreografie ottenendo un punteggio da standing ovation. Gli ultimi risultati sono stati a Norimberga questo weekend portando a casa due primi posti, due ori nelle categorie junior e senior che ci permetteranno di inseguire i nostri sogni in America al prossimo gennaio. Dunque l'American Dream è realtà, non resta che partire e mettersi in gioco con i giganti del cheerleading senza dimenticare mai l'ingrediente segreto alla base di ogni successo. Sicuramente la cosa che insegniamo all'inizio è la fiducia, il fidarsi dei compagni, essere lanciati, riprendere il compagno, quindi una forza fisica importante, una preparazione muscolare, però appunto la fiducia è alla base del nostro sport. Grazie. 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 Grazie a tutti